Non mi piace parlare del passato, però avere centrocampisti come te, come Pirlo, come Pogba, anche se non mi piace nominare un giocatore, però con la Tour che fa dei passaggi a due metri, manca di giocare più veloce, con più intensità, a trovare le facce più veloce, ma io non voglio togliere del credito al Villareale che ha fatto anche la sua partita, ma anche è mancato il gol al primo tempo, perché se la Juve fa questo gol è una partita differente, questa è la Champions.